Musica Ben trovati alla terza edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. La polizia di Sulmona ha posto. Gli arresti domiciliari responsabili dei gravi episodi di violenza avvenuti la notte del 20 settembre scorso, lungo corso o video, a seguito dei quali rimasero ferite otto persone, di cui due con prognosi superiore a 40 giorni. Il servizio. Sono tre gli avvisi di misura cautelare operati stamattina dalla polizia giudiziaria del commissariato di Sulmona, coordinati dal dirigente Francesca Alachioma. L'evento risale al 20 settembre. L'aggressione a un giovane 24enne di Sulmona. Ai domiciliari da questa mattina tre ragazzi di etnia Roma. Si tratta di due maggiorenni e di un minorenne. Parliamo di Massimo Di Rocco, 21 anni, e di Luigino Spinelli, di 19. Il minore invece ha soli 15 anni e anche lui ai domiciliari. Abbiamo riscontrato nell'ultimo periodo diversi episodi che hanno visto poi con i siti giovanissimi, sicuramente legati all'eccesso di consumo di sostanze accoliche, in particolare, ma anche di sostanze stupefacenti. In particolare appunto il 20 settembre c'è stato questo episodio, le quattro e mezza di notte nel centro di Sulmona davanti al Palazzo dell'Annunziata. Sono stati feriti 8 persone e oggi abbiamo eseguito tre misure di custodia cautelare di caressi domiciliari nei confronti di tre soggetti di etnia Roma di Sulmona, che appunto hanno picchiato prima un ragazzo e poi successivamente hanno anche ferito queste altre 7 persone. In particolare due feriti hanno avuto prognosi piuttosto importanti, al momento uno di 45 e uno di 50 giorni, quindi insomma sono episodi di violenza sicuramente da non sottovalutare. In questo caso c'è stata anche una risposta importante da parte della magistratura, sia da parte della procura del Tribunale di Sulmona, ma anche della procura del Tribunale per i minori dell'Aquila, in quanto uno dei ragazzi coinvolti è un 15enne, per cui sicuramente la preoccupazione è elevata considerata l'età giovane, anche gli altri due hanno uno 19 e uno 21 anni. Emergono nuovi particolari nell'inchiesta della procura dell'Aquila sulla presunta corruzione per la ricostruzione del complesso selesiano del Don Bosco. Oltre all'ex vice sindaco Riga e l'imprenditore Mancini nel mirino della magistratura, finiscono anche l'ex responsabile dell'ufficio speciale Aielli e il dirigente comunale Fabrizi, in servizio di Giorgio Alessandri. Amore, un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura, e sullo sfondo una città, ancora una volta al centro dei media, per vicende legate a corruzione, appalti pilotati, e un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vettorio Fabrizi e l'ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri due imprenditori sono interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica. Si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota la ricostruzione dell'intero complesso salesiano, che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece, stando alle ipotesi investigative, grazie all'intervento di Riga, avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione, che per magistrati e guardia di finanza si sarebbe materializzata con soldi che Riga avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti, poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio, in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi-contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda, mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto. È stato sottoscritto ieri pomeriggio, negli uffici della Procura di Teramo, il protocollo di intesa tra la Corte dei Conti e la Procura Teramana. L'accordo rafforza la sinergia tra magistratura contabile e ordinaria. Vediamo. Rendere sempre più efficiente lo scambio di informazioni tra la magistratura penale e quella contabile puntando ad una maggiore repressione dei reati. E' questo l'obiettivo del protocollo sottoscritto ieri pomeriggio dalla Procura di Teramo e dalla Procura regionale della Corte dei Conti, a firmare il documento che arriva dopo quelli già sottoscritti dalla Procura Teramana con IMSS e INAIL, il procuratore capo Antonio Guerriero e il procuratore regionale della Corte dei Conti in Abruzzo, Maurizio Stanco. La sinergia serve a creare un rapporto di collaborazione tra due uffici che sono preposti entrambi al controllo degli atti pubblici con finalità diverse perché noi lo guardiamo sotto l'aspetto penale e l'oro della responsabilità amministrativa. Finalizzato a questo controllo di risorse pubbliche noi sappiamo come talvolta queste risorse pubbliche non vengono spese bene. Un concreto riferimento è a tutte le indagini penali che in realtà possono confluire nell'ambito della responsabilità amministrativa allora quando si verifica un danno erariale e vi è quindi la necessità di perseguire i responsabili e quindi con il risarcimento in favore degli enti che sono stati danneggiati. Gli allevatori e produttori di latte abruzzesi hanno protestato questa mattina a San Giovanni Teatino contro le norme dell'Unione Europea che penalizzano il settore. Paolo Renzetti. Presidente Pasetti, quali i motivi della protesta di oggi a San Giovanni Teatino? Prima di tutto per rispolverare l'importanza di un settore, quello zootecnico, che è vitale per alcune aree. Il settore zootecnico è una realtà economica sommersa che non si vede, non ce ne accorgiamo quotidianamente della sua importanza però è un settore che rende ancora vivo e vitale una parte di questa regione che è quella parte interna che socialmente non possiamo abbandonare. Sono circa 15.000 le famiglie che dipendono da questo settore perché se consideriamo i 5.000 dipendenti nel settore mediamente 3 persone per ogni famiglia sono 15.000 persone. Negli ultimi 10 anni le unità impegnate si sono ridotte di circa l'80%. Abbiamo ancora circa 500 aziende in regione che cercano di sopravvivere. Ecco, letteralmente sopravvivere perché abbiamo una situazione paradossale nel senso che il sistema comunitario negli ultimi anni ha fatto sì che il prodotto latte e i suoi derivati non fosse più un prodotto agricolo ma bensì una merce industriale. Quello che chiediamo a gran voce è che venga definitivamente approvata la norma sulla etichettatura su tutti i prodotti del latte. Per esempio sul latte HT non c'è la provenienza, quindi non sappiamo da dove proviene, però i dati ci dicono che su ogni 4 bottiglie di latte HT vendute in Italia soltanto una bottiglia è di provenienza italiana. Il resto è di provenienza estera, quindi di dubbia provenienza perché non sappiamo se è fatto con il latte fresco, se è fatto con le cagliate, se è fatto con la polvere del latte. Quali prospettive ci sono per un giovane che come te ha deciso di intraprendere questa professione? Ad oggi le prospettive sono zero, forse sotto zero, perché con i prezzi che ci impongono e i controlli, è giusto che ci siano i controlli, però solo averli qui in Italia non è giusto perché se l'Europa è unita l'Europa dovrebbe avere tutti i controlli che ha l'Italia perché noi siamo destinati a chiudere con questi prezzi, con i nostri costi e con le difficoltà che ci sono oggi. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane ha presentato due emendamenti in commissione bilancio per prorogare per ulteriori tre anni i contratti dei 56 precari del comune di L'Aquila, scaduti a settembre. Previsti i provvedimenti anche per i precari degli altri comuni del cratere e degli uffici speciali per la ricostruzione. Sentiamo. È forse l'ultima spiaggia per i 56 precari del comune e dell'Aquila, con contratto scaduto da tempo e senza possibilità di rinnovo, nonostante parte della politica locale e del sindacato siano convinti che si possa andare in deroga al Jobs Act. Nella prossima legge di stabilità la senatrice Dem Stefania Pezzopane ha predisposto due emendamenti che riguardano i precari degli uffici speciali del cratere e dei comuni. Per i precari dei comuni del cratere, i cui contratti scadono a fine anno, a differenza di quelli del comune dell'Aquila, già scaduti a fine settembre, si dispone la proroga o rinnovo per gli anni 2016-2017 al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione e del tessuto urbano e sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso l'amministrazione pubblica. Alle proroghe e rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, spiega la Pezzopane, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Stesso trattamento anche per i precari dei due uffici speciali, ovvero quello dell'Aquila e quello del cratere. Gli emendamenti sono arrivati in commissione bilancio e hanno iniziato l'iter per l'approvazione, che arriverà ovviamente prima della discussione della legge di stabilità in Parlamento. Chissà cosa diranno gli idonei del concorsone, che da tempo chiedono lo scorrimento delle gradatorie, o il vice sindaco Trifuoggi, che in più occasioni si è detto contrario alle proroghe per motivazioni prettamente giuridiche e legislative. Il nodo verrà sciolto nei prossimi giorni. Per la saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, dalla regione sono in arrivo 3 milioni di euro, stanziati ieri nel corso della riunione del Consiglio. Critiche al provvedimento sono arrivate dal Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo. Un piano di interventi atto ad innovare la veste dell'aeroporto d'Abruzzo, la gestione della società aeroportuale annuncia una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione, completamento e ammodernamento che interessano l'area airside e l'anside. Nel quadro degli interventi di manutenzione straordinaria in programma nell'area airside si annovera la manutenzione della pavimentazione, della pista di volo, della pista di rullaggio e dei raccordi, altresì la manutenzione della segnaletica della pista e delle vie di rullaggio e la riqualificazione del piazzale di sosta per un ammontare complessivo di 4 milioni 420 mila euro. Intanto il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato il progetto di legge per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo che prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese, un contributo che non è stato accolto positivamente dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Vogliamo la salvaguardia dell'aeroporto d'Abruzzo, ma ci sono tutta una serie di criticità che abbiamo avanzate sulla Saga, la Saga che sono state anche avanzate dagli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi noi abbiamo chiesto più trasparenza, più chiarezza, abbiamo messo in discussione un'evidenza pubblica, riteniamo che il vettore non vada scelto a trattativa affidamento diretto ma ci deve essere un'evidenza pubblica e riteniamo che questi finanziamenti alla Saga senza aver avuto delle risposte concrete ai nostri quesiti non possono essere erogati. Quindi noi diciamo prima venga fatta trasparenza, prima rispondere a tutti i quesiti che abbiamo posto anche nelle commissioni competenti e poi valutiamo cosa serve o cosa non serve. Il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri ha presentato una riforma di legge per il contenimento delle acque lungo gli argini dei fiumi in caso di alluvioni. Abbiamo prodotto una legge che completa un intervento necessario che sono le vasche di espansione del fiume Pescara. I fatti di Genova sono nella memoria di tutti. Quando un fiume arriva a carico della sua forza fa danni, feriti e in alcuni casi anche morti. Ora l'Abruzzo ha questa possibilità sull'asta del fiume Pescara di realizzare queste cinque importanti vasche che faranno esondare il fiume in maniera controllata evitando che in caso di piena Pescara l'ultima l'abbiamo avuta drammatica tra il 2 e il 3 dicembre del 2013 il fiume arrivi con una forza inaudita e appunto crei danni a persone e cose. Ora però gli errori del passato non vanno ripetuti anche perché spendiamo tanti soldi che sono soldi dei cittadini e che devono portare un beneficio completo. Allora noi abbiamo proposto una semplicissima modifica ad una legge esistente che impedirà di cementificare le aste, le albi fluviali e le sponde dei fiumi. Se questo lo faremo vorrà dire che l'opera sarà effettivamente utile che i danni del passato ingentissimi saranno contenuti e che avremo messo in sicurezza la vita e le cose di tanti cittadini della provincia di Pescara. Questa mattina la regione Abruzzo ha stilato un bilancio, un primo bilancio della sua presenza all'Expo. Diamo com'è andata. D'Alessandro la partecipazione dell'Abruzzo all'Expo si è rivelata una scelta vincente, questo dicono i numeri. Sì lo dice il numero, dice un ultimo studio pubblicato sulla stampa nazionale secondo il quale tra coloro che sono andati a Milano, cioè all'Expo e nella città, tra le regioni più gradite c'è la nostra regione, dietro di noi regioni blasionatissime anche in termini di turismo, di tradizione turistica. Ciò significa che siamo riusciti a fare uno straordinario lavoro e che la scelta di essere contemporaneamente dentro l'Expo e nella città di Milano è stata la scelta che ha dato la fortuna a questa nostra presenza. Ora si tratta di sfruttare in chiave locale, in chiave turistica i risultati raggiunti a Milano? Esatto, si tratta di non vanificare questo lavoro. Noi siamo riusciti a farci scoprire. Ora il lavoro deve continuare e deve continuare non solo affinché la regione partecipi negli eventi internazionali che pure si muovono nel mondo e che non è solo l'Expo. Penso al prossimo appuntamento del Giubileo che è diverso, non ha natura commerciale, regato prevalentemente la fede, ma è anche una bella, grande, straordinaria occasione per l'Abruzzo. E poi insistere su questa promozione così come l'abbiamo pensata insieme all'università, insieme ai giovani che ci hanno lavorato. Cioè abbiamo raccontato un Abruzzo che finalmente ha vinto lo stereotipo. Oggi doppia seduta invece per il Pescara. Per quanto riguarda gli allenamenti resta in dubbio il difensore Ugo Campagnaro in vista della trasferta di Como di domenica prossima. Non dovesse farcela toccherà a Bruno giocare al fianco di Zuparic al centro della difesa nel Como da verificare le condizioni di Ambrosini e Cassetti. Sicuri, assenti, brillante e scuffette impegnati con le nazionali. Ma ascoltiamo nel servizio uno dei migliori tra i biancazzurri, il difensore Zampano. Comunque bisogna vedere la partita dopo la partita. Noi comunque siamo una squadra giovane e dobbiamo capire, secondo me, che comunque il campionato di Serie B non è soltanto fatto da fattori tecnici, comunque da individualità, ma anche da temperamento, da agonismo che ci mette in campo. Infatti, contro l'alternare, proprio all'inizio partita, non è che siamo partiti benissimo. Poi, dopo comunque l'espulsione che manco c'era, secondo me, poi non l'ho rivista. Poteva comunque dare meglio la partita. No, sicuramente le squadre tra le vette piccole che vengono qua, comunque si chiudono tutti dietro perché facciamo fatica a fare gioco. Cioè, loro si mettono 11 dietro ed è normale che fai un po' fatica. Mentre magari contro il Cagliari, come si è visto, abbiamo vinto anche 1-0, abbiamo fatto una gran partita e più, diciamo, riusciamo a esprimere il nostro meglio. Dobbiamo cercare di adattarci, come contro la Ternano e Novara, a delle squadre così che loro si chiudono. Cerchiamo di adattarci al loro gioco, a magari correre di più, a lottare su ogni pallone che magari non abbiamo fatto. Vabbè, sono venuto qua per cercare di salire col Pescare, comunque. Io con i miei compagni ce ne allinevo bene in settimana, poi si allineva bene in settimana comunque il sabato dà il meglio di te stesso. Io, vabbè, sono contento a livello personale, però come squadra le ultime due partite avevamo persi, quindi non posso essere contento. Io comunque secondo me devo iniziare a calciare un po' di più quando arrivo sul fondo e niente, perché riesco comunque a fare gli assist magari alla paduola, così che sono sicuro che riesci a metterla dentro. Si è giocata questa sera la gara secca di Coppa Italia di Lega Pro tra Teramo e Lupa Castelli. Vediamo com'è andata nel servizio di Andrea Costantini. Il Teramo accede al terzo turno della Coppa Italia di Lega Pro dopo aver eliminato la Lupa Castelli Romani. L'epilogo ai tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano chiusi sull'1-1, buon galoppo per i biancorossi, in campo tante seconde linee e giocatori poco impiegati in campionato, tra i titolari Calvano e Lenoci, per loro solo 45 minuti, partita intera per Dorazio, Di Paolo Antonio e per Rotta, quest'ultimo fermato per tre giornate in campionato. Vivarini ha regalato una vetrina ai giovani Cerqueti e Troiani, titolari e nel secondo tempo anche ai Bebi, Tini, Fratangeli e Calderaro. Tanti giovani anche per la squadra laziale, che ad inizio settimana ha esonerato il tecnico Giorgio Galluzzo, in attesa del sostituto. In panchina c'è il collaboratore tecnico Cioci. Si inizia con una nebbia minacciosa, ma che si diraderà nel corso dei minuti. Primo tempo discreto, ma è nella ripresa che arriva il botta e risposta. Al settimo è l'ex-sanconetano Morbidelli a sbloccare il punteggio, di forza in mischia, neanche un minuto che il diavolo pareggia con una bella staffilata di Antonio Palma. Nel finale la lupa resta in dieci per l'infortunio di Crescenzo, a cambi esauriti, e il teramo per poco non ne approfitta, a cavallo del novantesimo, gran palo di Dorazio, poi grande opportunità per Palma, bravo l'estremo Tassi, quindi un altro legno di Di Paolo Antonio che rinvia il verdetto ai tempi supplementari. Lorenzo Paolucci ci prova al secondo minuto, ma è al nono che trova il destro preciso nell'angolo per il 2-1, che non muterà, nonostante il diavolo usufrisca di altre opportunità, negate però dalla bravura del portiere laziale. Palma, possiamo dire che il turno, il termolo passa grazie alla B2. Palma Paolucci. Sì, diciamo che sì, viviamo anche insieme, quindi è una doppia gioia, perché condividiamo tanto insieme, siamo diventati grandi amici, quindi è bello che entrambi abbiamo fatto gol e abbiamo gioito. Bel gol è il tuo, arrivato subito dopo il vantaggio ospite. Sì, sì, diciamo meno male, così abbiamo ripreso subito la partita e dopo il mio gol abbiamo continuato a giocare bene e abbiamo meritato la vittoria, magari anche prima dei supplementari meritavamo una vittoria, però è venuta i supplementari e ci prendiamo questa vittoria, andiamo avanti, siamo molto contenti. Di solito la Coppa Italia si dice che è più un intralcio in vista del campionato, però per chi gioca meno, in fondo non è così. No, assolutamente, anzi io l'aspettavo da tanto perché comunque è un'opportunità per mettermi in mostra e per mettere minuti nelle gambe. E torniamo a parlare della questione infinita, la storia infinita dello stadio Angelini sulla querelle tra comune di Chieti e Chieti Calcio per la gestione appunto dell'Angelini è tornato oggi a parlare il sindaco Umberto Di Primio che si è detto ottimista su una soluzione positiva della vicenda. Intanto questa mattina la squadra si è allenata all'alba su decisione della presidenza. Il servizio. Sindaco Di Primio, si può dire che continua questa querelle per la gestione dello stadio tra l'amministrazione comunale e la Chieti Calcio. Qualche giorno fa sembrava che fosse tutto risolto invece nelle ultime ore è sorto di nuovo qualche problema. No, ci sono dei problemi che vanno affrontati evidente. Non stiamo parlando dell'affidamento di un cestino di Lumaghe. Stiamo parlando dell'affidamento di un impianto sportivo che ha un valore rilevante, che ha una rilevanza anche economica evidentemente e quindi devono essere percorsi tutte quelle vie che portano alla definizione sotto il profilo giuridico di un contratto che consenta a noi comune di aver tutelato fino in fondo il patrimonio comunale, cioè lo stadio Angelini, e alla Chieti Calcio ovviamente di aver raggiunto, avere la possibilità di raggiungere gli obiettivi che si è data. Noi questo vogliamo fare. Ci teniamo a che lo stadio possa essere gestito dalla Chieti Calcio, ma questo deve essere fatto rispettando delle regole che oggi noi abbiamo e che vogliamo assolutamente rispettare. Quindi con la società, con il suo patron, con la dirigenza, con i tecnici della Chieti Calcio ci incontreremo domani mattina e con loro vedremo quali sono le vie migliori per raggiungere il risultato. Una cosa è certa, domenica prossima il derby Chieti Giulianova si giocherà all'Angelini. Io penso proprio di sì. Non vedo motivi per giocarlo altrove. credo che il giusto passo l'abbia preso oggi il Presidente richiamando la squadra al proprio dovere e noi altri, cioè quelli che devono fare il proprio dovere nel contorno, lo faremo sicuramente fino in fondo. Ed è tutto per questa terza edizione. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.